Come intervenire sulla pancia durante la menopausa? La pancia diventa spesso una fonte di disagio durante la menopausa a causa dei cambiamenti ormonali del metabolismo più lento. La distribuzione dell'adipe cambia in questa fase e tende a concentrarsi in modo particolare sull'addome. Esistono però alcune accortezze per gestire questa situazione e alcuni suggerimenti utili. Esercizi mirati, svolgere esercizi specifici per rafforzare gli addominali. Non solo aiutano a tonificare la zona ma anche a sostenere la postura. Attività cardiovascolari, esercizi cardio come camminare, correre o fare ciclismo bruciano calorie e possono aiutare a ridurre il grasso corporeo incluso quello nella zona addominale. Alimentazione equilibrata, fare attenzione a cosa si mangia, ridurre il consumo di cibi all'alto contenuto di zuccheri e di grassi saturi e privilegiare cibi integrali, frutta, verdure e proteine magre. Controllo delle porzioni, mantenere le porzioni sotto controllo può essere utile per gestire l'assunzione calorica e favorire la perdita di peso. È importante ricordare che ogni corpo è diverso e i risultati possono variare da persona a persona. Con pazienza e una buona combinazione di esercizio fisico regolare, una dieta equilibrata, una gestione dello stress può contribuire a ridurre la pancia durante la menopausa. Vuoi un supporto per raggiungere la tua forma fisica ideale? Rimodeletete da me fianchi un metodo nato e perfezionato in oltre 25 anni di esperienza per permettere alle donne di ritrovare il loro benessere e la loro forma fisica ideale in pieno relax e soprattutto ottenendo risultati concreti fin da subito. Rimodeletete da me fianchi si avvale delle sinergie di diverse apparecchiature e trattamenti specifici che mirano a lavorare il corpo nella sua totalità. Andando a modellare le zone più critiche proprio come addome e fianchi con questo approccio non si va a trattare di estetismo in modo superficiale ma si va alla sua causa. Approcciarsi infatti al corpo nella sua totalità e seguendo determinati step fondamentali serve per ottenere risultati sorprendenti ma soprattutto duraturi e a gestire un cambiamento più profondo. A questo punto prenota la tua consulenza specialistica noi ci troviamo a Rangusa in via Napoli Nicolaianni numero 41 oppure chiamacelo 0932 246 085 puoi scriverci anche tramite whatsapp a 327 5631975 Grazie a tutti. Grazie.